Potrebbe essere a rischio la tradizionale porchetta abruzzese. Questa infatti sarà un'estate diversa da quelle a cui siamo abituati e anche i cosiddetti paninari lungo la riviera potrebbero non esserci più. Ma allora lo street food è destinato a scomparire? No, assolutamente no. E diciamo che per questi due mesi e mezzo è scomparso, perché noi non stiamo lavorando da due mesi e mezzo. Però grazie a Dio lunedì si dovrebbe rincominciare a lavorare con la porchetta. Da pertanto garantiamo che da lunedì torneremo nei nostri posti, nei mercati che abbiamo, ma soprattutto nei posti fissi la sera, dove si può acquistare la porchetta calda come si faceva due mesi e mezzo fa. Anche la porchetta quindi tornerà per strada nella fase 2, ma non senza qualche modifica. Bisognerà adottare tutte le misure per evitare assembramenti e garantire la sicurezza di clienti e operatori. Dobbiamo attuare tutte le norme e le misure di salvaguardia, la sicurezza, mettere i clienti diciamo in sicurezza e noi usare tutte le forme giuste per attenerci alle nuove norme, le nuove normative insomma. Quella di Genobile è una delle porchette più iconiche d'Abruzzo, ma l'azienda si ramifica su diversi settori. Con l'emergenza coronavirus ci si è dovuto attrezzare con le consegne a domicilio e anche gli abruzzesi cominciano a comprare online perfino la carne. Catering e porchetta distrutti completamente, invece la macelleria, ci siamo reinventati un sistema nuovo di lavoro, grazie a Dio, per tenere il locale aperto, per tenere un po' gli operai anche impegnati la mezza giornata e abbiamo attuato la consegna a domicilio che funziona alla grande. Anzi, sono convinto che dopo, inutile è una frase inflazionata, dopo di questo tutto cambierà, ma sono convinto anch'io. Sicuramente nella mente della gente, nell'idea della gente, sta maturando la possibilità di acquistare online, anche la porchetta, i salumi, la carne, tutto quello che è attinente.